Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il traguardo dell'eccellenza oramai è ad un passo. Il città di Teramo, capolista del girone B di promozione a quota 54, si gode i 9 punti di vantaggio sulla Turis e Val Pescara e con 7 partite ancora da giocare vede avvicinarsi il traguardo del salto di categoria. I numeri certificano la forza della squadra di Pomante, 10 vittorie nelle ultime 11 gare, miglior attacco, 60 gol fatti e miglior difesa, 16 reti subite. In casa biancorossa però si continua a restare con i piedi per terra e concentrati sui prossimi impegni. Domenica al Pigliacelli di Montorio sarà di scena il caso Lidi Atri, ultimo in classifica, oramai quasi retrocesso. I biancorossi potranno sfruttare questo turno favorevole e aumentare il vantaggio sulla Turis che affronterà in casa il Favale, terzo in classifica. Uno dei protagonisti della cavalcata del città di Teramo è il giovane portiere Lorenzo Bozzi, classe 2002 che sta crescendo partita dopo partita, dando più sicurezza al reparto arretrato e contro il lauretum un rigore neutralizzato e un intervento decisivo lo hanno reso protagonista. Sicuramente non avevo per niente intuito il cucchiaio, ho deciso di aspettare il tiro fino alla fine e questa cosa mi ha premiato perché poi mi ha fatto il cucchiaio e in tranquillità sono andato a recuperare il pallone. Però sinceramente il cucchiaio forse era sull'1-0 per noi, era l'ultima cosa che mi aspettavo. Ma sei stato miracoloso anche su quel colpo di testa prima del calcio di rigore? Sicuramente è stata una bella parata decisiva perché penso che mancava ancora tanto e andare sull'1-1 forse ci avrebbe messo in difficoltà. Però ho fatto una bella parata, me lo posso dire forse. Poi l'abbiamo chiusa definitivamente con i gol dei miei compagni. Ieri i biancorossi sono tornati ad allenarsi al besto di San Nicolò. Assente Mario Andreozzi che ieri si è sottoposto a RX piede sinistro che ha escluso fratture ma solo tumefazione e tessuti molli mentre l'esterno offensivo Matteo Di Giacomo ha svolto lavoro differenziato solo piccola corsa lenta e terapie. Ha un'infiammazione nella regione inquinale e i tempi di recupero non sono brevi mentre Cristian Cangemi oggi si sottoporrà controllo radiografico del dito mano destra. Sul fronte societario continuano le trattative con un gruppo assicurativo di Milano e le parti torneranno ad incontrarsi nei prossimi giorni.